Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale, come vedete dal titolo, vi voglio parlare della nuova versione prossima ventura d'autunno di Ubuntu 12.10. Si tratta anche di un tema suggerito da qualcuno di voi che seguite questo canale, perché in realtà ci sono tonnellate di indicazioni, di immagini, di video, ci sono già tonnellate di immagini e video per questa nuova versione in rete, e non sarebbe strettamente necessario che anch'io mi metta a fare l'ennesimo video sulle novità, ma siccome appunto un iscritto al canale mi ha chiesto di parlarne un poco e anche di dare la mia opinione su alcune novità e scelte decise, applicate da Canonical per la nuova Ubuntu, ben volentieri mi accingo anch'io a fare un video senza soffermarmi troppo appunto sui dettagli delle varie novità, elencandoli un po' rapidamente, proprio perché in rete c'è già molto materiale e sarebbe un doppione inutile. Allora partiamo subito. Nuove caratteristiche dunque, io ho raccolto nella mia scaletta qualche link in rete qua e là, senza una scernita precisa, così il primo sito che mi sembrava adatto allo scopo l'ho archiviato qui nella mia scaletta, l'ho introdotto nella mia scaletta e lo propongo qui, l'ho già aperto qui nel mio browser, che sia in inglese o italiano non ha avuto importanza, giusto per avere un po' come punto di riferimento per la discussione. Allora il primo sito che è questo, elenco delle novità, che raccoglieva a fine, vedo a fine agosto, raccoglieva un po' le novità che si prospettavano per questo nuovo Ubuntu, che adesso ormai è vicina praticamente a un mese, manca un mese, in agosto mancava un po' di più, comunque qui c'è una raccolta delle novità. Ecco, allora questa Ubuntu 12.10 sarà la prima a non far più capo a un cd, a un'immagine di installazione che riusciva ad essere scritta nello spazio di un cd. Dalla 12.10 in avanti passeremo a circa 800 mb di immagine, quindi in un cd non ci sta più, quindi sarà o un dvd o le sempre più usate pennette usb. Diciamo che io personalmente è molto molto tempo che non scrivo più né un cd né un dvd perché appunto ho adottato le tanto pratiche e rapide penne usb e quindi eccomi qua. Oh, è sparita un attimo la pagina, eccola qua che è tornata, non so se ho schiacciato qualche link o qualche refresh della pagina, scusatemi. Comunque stavo dicendo che appunto le pennette usb sono decisamente più pratiche e più rapide sia nella preparazione che poi nell'utilizzo rispetto a un cd e un dvd. Comunque diciamo che è stato varcato un confine storico perché ubuntu da 7 anni a questa parte, da quando è nato, ha sempre fatto in modo di restare nello spazio di un cd, quindi dai 700 ai 700, non so neanche più bene, 750 forse, 770 mb, ormai non ci si sta più. Quindi, varcato al confine del dvd. Poi, ubuntu web apps, ecco, ho già avuto modo di fare un video per presentare cosa siano queste web apps e in ubuntu 12.04, cioè l'attuale versione di ubuntu, a lungo termine di supporto, è possibile avere una preview, cioè un'anteprima di questa tecnica, di queste web apps, cioè degli applicativi web che si integrano perfettamente nel desktop e a partire da ubuntu 12.10, queste web apps saranno presenti effettivamente, non solo come in anteprima, ma per difetto saranno presenti. Poi, un miglior e più facile, più semplice gestore degli aggiornamenti, update manager, cioè degli aggiornamenti, questo lo vediamo ancora un po' più in dettaglio fra un attimo, quindi lo cito e basta, in elenco, non c'è più, non ci sarà più durante l'installazione il passo di migrazione dei documenti e roba varia da Windows, o meglio, chi ha un pc con installato Windows e installa a fianco oppure sostituisce Windows con Ubuntu, finora aveva la possibilità di un passo, di un'opzione che permetteva di migrare dalle cartelle Windows, di vari documenti nelle cartelle di Ubuntu, questo passo non è più stato, come si dice, gestito, manutenzionato e quindi è stato abbandonato, probabilmente anche per lo scarso uso riscontrato di questa opzione è stata abbandonata. Poi, vabbè, Nautilus, quel file manager storico di Ubuntu, è stato migliorato un po' qua un po' là, anche se la versione è rimasta quella di Ubuntu 12.04 per vari motivi che non stiamo qui a discutere, quindi non passerà al Nautilus dell'ultimo GNOME 3.6 ma resterà quello 3.4. Poi, ovviamente, come ogni versione di Ubuntu, il software, tutte le versioni dei programmi saranno all'ultima versione disponibile a ottobre, diciamo, quindi si partirà con tutto il software aggiornato il più possibile. In agosto, qui si parlava di un nuovo tema di icone, il punto di domanda rimane, non si sa, se ci sarà o no non se ne è più parlato, e dovrebbe anche essere, ovviamente, è uno sempre degli obiettivi, man mano che si progredisce, di avere un Ubuntu sempre più veloce. Ecco, in agosto si diceva così, poi chi ha fatto dei test successivamente per vari cambiamenti tecnici ha riscontrato dei peggioramenti di prestazioni della futura Ubuntu. Al momento che uscirà in ottobre, vedremo, con nuovi test, se questi peggioramenti saranno confermati, oppure se ci saranno effettivamente dei miglioramenti, comunque, chiaramente, l'obiettivo è avere un sistema operativo snello e veloce. Però, chiaramente, i cambiamenti tecnici che possono esserci, diciamo così, tra virgolette, sotto il cofano, a volte, possono anche portare temporaneamente, e sottolino temporaneamente a dei peggioramenti. E siccome la versione 12.10 è una versione intermedia e non a lungo termine di supporto, è appunto una versione di quelle, diciamo, che fanno da palestra per la futura versione a lungo termine di supporto, e quindi ci si può anche permettere, magari ogni tanto, qualche problema in più, proprio perché è una versione di lavoro, una versione nella quale si introducono molte novità, prima di giungere alla prossima versione a lungo termine di supporto. Ecco, questo primo sito ha elencato un po' le novità essenziali, le principali novità che ci saranno nella nuova Ubuntu. E cosa ne penso? Ecco, perché appunto, chi mi ha suggerito il tema, non mi ha chiesto di fare un semplice elenco delle novità, ma anche di dare la mia opinione dove è possibile. Ecco, per quanto riguarda questo primo sito, dico, il CD per me non è mai stato un gran problema, nel senso che usando le chiavette USB, lo spazio non è mai stato un gran problema, e quindi non lo vedo nemmeno ora il problema, diciamo che è più una cosa, tra virgolette, sentimentale e storica, di abbandonare il formato del CD per un DVD, ma appunto, visto che credo anch'io che come me la maggior parte ormai usi solo le penne USB, non è più una questione, ecco, non si pone nemmeno il problema del CD. Le web app sono una novità di Ubuntu che contribuiscono decisamente a sempre più integrare quanto noi facciamo localmente sul nostro PC, quindi con programmi presenti fisicamente sul nostro PC, e il mondo che sta al di là, nella rete, e cioè nel web, tipicamente le applicazioni per esempio Google, come Google Docs, Google Calendar, ecco, avete presente queste applicazioni, questi servizi gratuiti di Google che moltissimi usano, ma anche il Gmail stesso, il mail con interfaccia web, ecco, avere la possibilità di integrare nel nostro desktop Ubuntu, questi applicativi come fossero, facendo finta, diciamo, mimetizzandoli come fossero degli applicativi presenti localmente sul vostro PC, è una cosa che io trovo estremamente positiva. Le Ubuntu web apps tendono a togliere ogni confine fra il web, fra la rete, gli applicativi presenti in rete, e gli applicativi presenti localmente, quindi sarà sempre di più, almeno in Ubuntu, un'esperienza integrata, un'esperienza senza rotture, un'esperienza senza confini lineare, quindi potrete usare qualsiasi programma, a un certo punto, nella visione ideale di Canonical Ubuntu, non dovreste neanche più accorgervi se state usando un applicativo che in realtà risiede nella rete, nel web, come Gmail, rispetto a, non so, LibreOffice, Calc o Writer, che sono applicativi installati sul vostro PC. Dovrebbe esserci proprio nessun confine, neanche più accorgersene, e queste web apps hanno questo scopo. Vedremo se alla fin fine riusciranno a raggiungerlo effettivamente o meno. Per quanto riguarda il resto, non ho niente di particolare da dire, magari passiamo ai prossimi punti. Ecco, un punto importante che è successo è stato l'abbandono di Unity 2D. Quindi, allora, voi saprete che fino all'attuale Ubuntu 12.04, quella che sto usando io attualmente, ed è l'ultima rilasciata ufficialmente, era possibile, anzi è possibile, usare Ubuntu in due modalità. Modalità 3D, cioè che sfrutta l'accelerazione grafica delle schede grafiche, per i PC che possono farlo, e che hanno i driver giusti per poterlo fare, e Unity 2D, che è, tra virgolette, il parente povero della Unity 3D, cioè una Unity che vi permette di avere la stessa esperienza desktop, interfaccia, però senza accelerazione grafica, senza effetti grafici particolari, per i PC che non possono avere, appunto, la possibilità di sfruttare questi effetti grafici e l'accelerazione della scheda grafica. Ecco, questo fino a Ubuntu 12.04, appunto. Da, a partire da Ubuntu 12.10, non c'è più Unity 2D, ma c'è solo Unity, che non si chiamerà, diciamo, neanche più Unity 3D, ma sarà solo Unity, punto, perché viene introdotto una modalità tecnica particolare che permette di usare la stessa Unity anche su PC senza accelerazione grafica, quindi tutti useranno la stessa Unity, sia i PC che possono sfruttare l'accelerazione grafica, e i PC che non possono farlo. E questo è decisamente un punto positivo. Ecco, la mia opinione è che più gli sviluppatori possono concentrare gli sforzi su un oggetto unico, meglio sarà per il futuro di Ubuntu. E quindi non dover più suddividere il gruppo di sviluppatori, che già non sono tantissimi, di canonica, su Unity 2D e Unity 3D, ma concentrarsi solo su Unity e basta, è decisamente positivo. E sicuramente ne vedremo subito gli effetti, perché unendo le forze, e quindi il gruppo di sviluppatori concentrato, con le conoscenze e con l'apporto di ognuno in un unico ambiente, è sicuramente positivo. Magari non lo vedremo subito in Ubuntu 12.10, che come detto è una versione intermedia, quindi può avere anche qualche pecca qua e là, qualche funzionalità, magari un po' troppo giovane, troppo spinta, eccetera, eccetera, come sempre, come in tutte le versioni intermedie, però sicuramente a lungo andare, a lungo termine, già nella prossima versione nel 2014, la prossima versione a lungo termine di supporto, tutti i benefici e effetti di concentrarsi su un'unica interfaccia per tutti i PC e tutte le potenzialità dei PC sarà sicuramente visibile. Forse questo, a parte le varie funzionalità nuove in più, forse questa è la decisione più importante che porta questa nuova versione di Ubuntu 12.10. A mio modo di vedere, forse è proprio la decisione strategica più importante. Poi, nuova opzione per crittografare l'intero disco e la possibilità di attivare il sistema LVM di gestione dei dischi. Ecco, questo è un capitolo che secondo me è degno di essere trattato più in dettaglio a parte. Non sto qui a spiegare cosa sia il sistema LVM di configurazione dei dischi, non sto qui a spiegare più di tanto cosa significa crittografare l'intero disco rispetto alla sola home, eccetera, eccetera, perché appunto sarebbe mia intenzione più in là nel futuro, quando l'Ubuntu 12.10 sarà già stata rilasciata e quindi si saranno stabilizzate queste varie parti tecniche di parlarne magari più in dettaglio. Però, ecco, prendetela come un appunto, io me lo sono marcato, più in là ritornerò su questo argomento. Per quanto riguarda questo video, il presente video, mi limito a dire che appunto nella procedura di installazione grafica di Ubuntu, cioè quella che tutti noi usiamo per installare Ubuntu, sono state introdotte delle nuove opzioni che permettono appunto, come vedete qui, di crittografare tutto il disco e di attivare l'LVM per gestire i dischi, le partizioni, i volumi logici, fisici, eccetera, eccetera. Ecco, non è una novità tecnica in assoluto, nel senso che sia la crittografia del disco, sia il sistema LVM sono da tempo presenti nel mondo Linux e anche in Ubuntu era possibile anche in precedenza usare queste opzioni, ma non con l'installatore grafico. Era già presente nell'installazione in modalità per i server, insomma, quello a interfaccia caratteri, un po' come il vecchio DOS, se avete presente, ecco, perché appunto LVM è anni che è presente nei sistemi Linux. e invece è la prima volta con Ubuntu 12.10 che queste opzioni vengono rese disponibili nell'installatore grafico, quello per noi utenti comuni, quello più semplice, più guidato, ecco. Quindi è una novità per Ubuntu e per il suo installatore grafico, ma non certo una novità in assoluto, tecnicamente parlando, ma su questo appunto, promesso, ci ritorneremo. E quando io ho installato la mia 12.10 nella macchina virtuale, ne ho approfittato appunto, come vediamo qui, aspettiamo un attimo che si apra lo screenshot, mio povero PC, ecco, vedete, quando io ho installato la mia Ubuntu 12.10 nella virtuale, virtual machine, giusto per vedere com'è, com'è fatta e come sempre faccio, ho attivato, vedete, l'uso dell'LVM per gestire i dischi, ma non la criptografia, perché in virtual box non faccio, di solito non attivo queste opzioni, perché non serve, comunque vedete c'è appunto questa opzione che si conferma anche su questo sito, questo screenshot. ecco, diciamo che giusto per dare un accenno, tutto ciò contribuisce a dare maggiore sicurezza a quanto noi abbiamo depositato sul nostro PC e una maggiore comodità nel gestire i dischi, le partizioni dei dischi, per chi le ha, e i dischi in generale. andiamo avanti quindi, e anche le impostazioni di sistema sono state migliorate, quindi il pannello, scusate, il gestore dei, ecco sì, andiamo in sequenza come nel sito, quindi ci presenta prima la gestione delle applicazioni preferite, che è stato migliorato, nel senso che adesso effettivamente scegliendo per il web, per esempio come vedete qui in immagine, Firefox, effettivamente tutti i siti si apriranno con Firefox, i file in HTML si apriranno con Firefox, se si dice che i video devono essere aperti con VLC, appena si sceglie VLC, tutti i file tipo video si apriranno immediatamente con VLC, eccetera, eccetera. Poi il pannello, eccolo qua, il system setting, il pannello delle impostazioni di sistema, è stato migliorato in che senso? Nel senso che non si deve più scorrere in su o in giù, con la barra laterale qui a destra, quando ci sono più icone dello standard, cioè adesso, se io aprissi il pannello delle impostazioni, l'impostazione di sistema, avendo qualche icone in più tipo MyUnity installato che si aggiunge qua in cima, mi fa scorrere in giù tutte le icone esistenti, ma la finestra non si ingrandisce, quindi devo scorrere con la barra laterale, ecco, da Ubuntu 12.10 questa finestra si adatterà in grandezza a quante icone ci sono e non si dovrà più scorrere in su o in giù, poi i driver proprietari, cioè la gestione dei driver proprietari, l'installazione, l'attivazione dei driver, eventuali driver proprietari, non è più un'icona per conto suo qui, quindi non la vediamo più qui, ma è stato messo, inserita nella gestione delle sorgenti software, quindi chi necessita tipicamente, chi ha una scheda grafica Nvidia per esempio, o AMD, eccetera, dovrà di solito installare per avere le prestazioni migliori i driver proprietari, non li troverà più come icona a parte qui, ma dovrà andare nella gestione delle sorgenti software, e cioè qui, vedete quell'icona qua, si apre la sorgente software e lì si trova una scheda dedicata ai driver proprietari, quindi è stato spostato lì, che ha una sua coerenza, anche se chi è abituato finora ad avere la sua icona che era in questa zona per i driver proprietari, magari trova poco intuitivo in un primo momento doverlo cercare nelle sorgenti software, però se pensiamo che, in fin dei conti, i driver proprietari vuol dire installare dei pacchetti, ecco che c'è la sua coerenza averlo introdotto qua. Dunque, abbiamo parlato delle applicazioni preferite del pannello, ecco, questo l'abbiamo fatto, e ritocchi grafici in generale, ecco, piccoli ritocchi, che sicuramente non portano né a maggior stabilità del sistema, né niente, però, a mio modo di vedere, la mia opinione, è che più è raffinata la grafica, più si ha un senso di professionalità e comunque anche psicologicamente di solidità del sistema, e lo si sente più proprio, ecco, non so come spiegarlo bene, ma più è fine alla grafica, più si ha l'impressione che sicuramente è stato curato il sistema operativo, la faccia del sistema operativo, che qualcuno ci ha lavorato con passione e soprattutto che ci sia dietro qualcuno che studia e ci lavora per renderlo sempre più raffinato e piacevole anche alla vista. Ripeto, non è quello che fa la solidità e magari l'ottima funzionalità del sistema, per carità, le due cose devono essere assieme, però, se è vero che l'occhio vuole la sua parte, anche quello fa, e quindi, vedete qui per esempio, che nel menu dell'indicatore della messaggistica, delle chat, eccetera, quello qui a sinistra, tipo Ubuntu 12.04, versione attuale, e quello futuro Ubuntu 12.10, vedete che qui, invece di un generico chat, appare l'icona Empathy, cioè del programma specifico delle chat, invece di Broadcast, appare Guiber, che è il programma che gestisce i social network, Twitter, Facebook, identica, eccetera, eccetera, la posta invece di Mail, c'è proprio se c'è il programma installato, Thunderbird, per esempio, eccetera, eccetera, vedete, più indicativo, ecco, per esempio. Poi, ci sono altri ritocchi, per esempio, nell'interfaccia di gestione della nostra nuvola personale Ubuntu One, è stata aggiunta una scheda in più, quindi Folder, Devices, Settings e Account Information ci sono già adesso, e qui è stata aggiunta, per semplificare ulteriormente, rendere più efficace l'uso di Ubuntu One, una nuova scheda che è ShareLinks, che ci permette di cercare, visualizzare, cliccarci sopra, a tutti i file che noi abbiamo condiviso pubblicamente sulla nostra nuvola personale. Qui, adesso in questo screenshot, in questa immagine, non ce n'è nessuno, ma ce ne fossero, di file che voi avete reso pubblici, verrebbero elencati qui, potete raggiungere direttamente da qua. Poi, altre novità, grafica, diciamo, lasciamo perdere questo per il momento, ne parliamo fra un attimo, dei contacts, ecco, è sempre fra le, tra virgolette, raffinatezze grafiche, e ce n'è una che vi posso far vedere nella VirtualBox, che a proposito di VirtualBox, ho, sì, installato la nuova Ubuntu, che verrà, ma ho dei problemi ad installare le Guest Addition, che sono poi quelle che permettono di avere il sistema a finestra piena e di sfruttare a pieno la grafica, ecco, quindi è un po' instabile, è lenta e ogni tanto si impalla come sistema, quindi non farò un granché nella VirtualBox, ce l'ho qui aperta, giusto per far vedere che l'ho installata, per far vedere qualcosina qua e là, ma non posso far vedere più di tanto. Ecco, comunque a proposito di menu di messaggistica, c'è un ulteriore miglioramento, che è il riporto dell'iconcina dello stato, cioè se siamo disponibili, assenti, non disponibili per la chat, anche direttamente sull'icona della bustina qui in alto, ecco, forse è un po' piccolo, non la vedete qui in verdino, che è l'icona disponibile in verdino, magari se ingrandisco il desktop la vedete meglio, vediamo un po', ecco, vedete, viene riportata qui in piccolo, quindi senza dover aprire il menu, in futuro potete vedere direttamente quale stato avete impostato. Altra piccola raffinatezza. Un'altra che forse, a mare a primo colpo d'occhio, non lo si nota tanto, forse più sui pulsanti, è l'arrotondamento di tutti i campi dove si può scrivere e anche dei pulsanti. Confrontate pure, mentre ma riguardate questo video, una finestra, qualsiasi file manager per esempio, come in questo caso, della vostra attuale versione di Ubuntu e confrontatelo con questo campo, per esempio, vedete che qui tutti gli spigoli sono arrotondati, tutto, anche i pulsanti sono tutti arrotondati, lo potrete vedere sicuramente, leggermente arrotondati, questo è un affinamento grafico che è piacevole all'occhio. Poi ci sono anche dei ritocchi grafici alla login, al momento della login, ecco, che se io vi apro uno screenshot della login della mia virtual box, appena si apre, solo un attimino, ecco, vedete che, uno, è stato aggiunto l'indicatore di rete, quindi già la login, potete scegliere magari se andare su un wireless piuttosto che su un cavo, vedete è stato aggiunto, adesso non c'è, nella Ubuntu attuale, fino all'Ubuntu attuale c'è l'audio, il tipo di tastiera e questi altri pulsanti, ma non l'indicatore di rete, vedete. Poi, vedete che anche qui è stato arrotondato il pannello di login dove mettete la password, è sparito il simbolo di Ubuntu per aprire il menu e per scegliere eventuali altri tipi di desktop grafici o altre sessioni, ma non è sparito del tutto, ma è sparito solo, o meglio, non si vede solo nella situazione in cui avete solo Ubuntu installato, quindi, ammettiamo, ipotizziamo che io in questo sistema abbia installato sia Ubuntu che, che ne so, KDE, allora mi apparirebbe magicamente il pulsante di Ubuntu per schiacciarlo e poter scegliere con quale sessione grafica voglio entrare, Ubuntu o KDE, ma siccome qui ho solo Ubuntu, è inutile presentare il pulsante, quindi altro affinamento l'hanno tolto, è inutile che abbia il pulsante per scegliere se posso scegliere una cosa sola, e avanti. Poi, la sessione ospiti c'è sempre, come c'è sempre stata già da qualche versione, e è stato aggiunto anche l'accesso remoto, quindi al momento della login non solo posso accedere al mio PC, come sempre, ma addirittura, per chi ne ha la necessità, posso direttamente già da qui e accedere a macchine sulla mia rete, a macchine esterne, remote, anche via proprio rete web, come qualsiasi accesso remoto, chi già usa accesso remoto sa cosa intendo, potete già farlo direttamente qui, già dal vostro PC, direttamente dal login, senza dover accedere prima al vostro PC, far caricare tutta la sessione, poi aprire il programma di gestione accesso remoto, ma direttamente potete già accedere e attivarlo da qua. Niente male direi, questo Ubuntu sta diventando sempre più pratica, sempre più comoda nell'uso per le varie esigenze. Poi, la Dash, quindi il centro, il cuore di Unity, sta diventando sempre più importante, sempre più il cuore di Unity. La Dash ha aggiunto, ha acquisito anche le anteprime, quindi fino adesso Ubuntu 12.04, io con la Dash posso, adesso qui spero che funzioni tutto bene nella VirtualBox, dicevo, ecco, così a prima vista è identica la Dash a quella di Ubuntu 12.04, non c'è nessuna differenza grafica particolare, come potete vedere, ma è stata aggiunta, ripeto, la funzionalità delle anteprime, cioè su qualsiasi oggetto che io cerco, che sia un file, che sia una foto, che sia quello che volete voi, posso andare con il mouse sull'icona che mi interessa e premere il tasto destro del mouse. Premendo il tasto destro del mouse, cosa succede? Magicamente si apre un pannello di anteprima. In questo caso era l'applicativo della calcolatrice e mi si apre direttamente uno screenshot, un'immagine dell'applicativo, in questo caso, se c'è, e la descrizione di cosa fa l'applicativo, con le review, tutto, come se fossimo nell'Ubuntu Software Center, per intenderci, e con la possibilità di, siccome è già installato, rimuoverlo, rispettivamente lanciarlo direttamente da qui, quindi aprire il programma. Se non fosse già installato come programma, avrei il pulsante di installarlo, ovviamente, e si installerebbe direttamente qui, se è un programma, se non erro, se è un programma a costo zero, si installerebbe direttamente qui senza aprire l'Ubuntu Software Center, se è un programma da acquistare, ci fa aprire comunque l'Ubuntu Software Center per inserire i termini, gli estremi del pagamento, e poi si installerebbe il programma. Quindi vedete che la Dash praticamente diventa veramente sempre più il cuore di Ubuntu, cioè si fa sempre di più, si può far sempre di più in questa Dash, per esempio non si arriverà quasi a non abbandonarla mai, perché si può già fare tutto qua dentro. Tutto intendo che le anteprime, ripeto, valgono per i video, per la musica, si può ascoltare la musica, si può scorrere la musica anche da acquistare, i vostri file, le vostre foto, i video, tutto da qui potete, proprio anteprima, non statica, ma anche già vedere le cose qua e scorerle. Poi schiacciate il tasto ESC e tornate a dove eravate prima, al vostro risultato nella Dash. Quindi potete restare dentro, avanti e indietro, potete fare delle anteprime di altri applicativi, se vi interessa un altro applicativo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che è una cosa estremamente comoda. Adesso ho schiacciato anche questo, per esempio, vedete, ho cambiato applicativo, altra anteprima, mi interessa, sì, no, voglio installarlo, sì, no, eccetera, eccetera. ESC e torno qua. E vale per tutto quanto c'è nella Dash. Poi, e questo, in mia opinione, è la direzione giusta, perché, lo confesso, ogni tanto, questa anteprima, adesso, in Ubuntu 12.04, in certi momenti, dico, ecco, se ci fosse, magari vedo qualche icona curiosa qui sotto, delle applicazioni disponibili, e non ho voglia di andare ad aprire l'Ubuntu Software Center, o cliccare, aspettare che si apra l'Ubuntu Software Center per vedere che cosa fa questo applicativo, in futuro avrò direttamente l'anteprima più veloce e rapida nella Dash. Tasto destro, clic, ed è fatta. Ottimo, ottima scelta. Poi, sempre a livello di Dash, c'è una nuova lens che si è aggiunta per difetto. Cosa vuol dire per difetto? La nuova lens che troveremo installata già in partenza, appena installato Ubuntu, ed è la lens per le immagini, perché sapete che finora, fino a Ubuntu 12.04, avevamo la lens per gli applicativi, per i documenti, per la musica e per i video, ma non per le immagini e le foto. Ed ecco che si è aggiunta per difetto anche, quindi già insita nel sistema, installata per difetto, quella per le immagini, con appunto relative inteprime, eccetera. Se, non, ecco che c'è, ecco sì, anche nella mia virtual box, appunto, si è installata anche la lens photo, naturalmente qui non ne ho, quindi mi si aprirà completamente vuota, però vedete che c'è la lens photo, e qui in fondo la vedete. Ecco, questa qui è proprio la disposizione appena installata, quindi applicazioni, documenti, musica, foto, nuova e video che c'è già anche ora. Ecco. E qui potrete naturalmente cercare, elencare le vostre foto che avete sul PC localmente, online, nei vari Google+, Flickr, queste cose qua, eh, per intenderci. Ottima anche questa, eh, proprio per completare in effetti, diciamo, il mondo multimediale della Dash, ecco, diciamo così, mancava la parte delle fotografie, adesso è arrivata. Poi, come ultima cosa, vi posso mostrare che l'aggiornamento del software è stato migliorato, diciamo, nel senso che, ecco, apro magari un'immagine, ecco qua, vedete che adesso, fino a Ubuntu 12.04, quando si apre l'Ubuntu, scusate, il gestore degli aggiornamenti, si apre una finestra più grande, vi fa vedere l'elenco di tutti gli aggiornamenti, i pacchetti e le informazioni tecniche di quanto verrà aggiornato, adesso, ecco la nuova Ubuntu, si aprirà una finestrella così, più ridotta, dove vi dà i dettagli minimi, per farvi capire che ci sono degli aggiornamenti, che potete rimandarli a più tardi, che potete installarli adesso, con le impostazioni, però non vedete tutto l'elenco degli aggiornamenti. Magari la maggior parte delle volte non vi interessa, qualche volta siete curiosi di vederli, allora potete naturalmente premere qui, dove c'è scritto dettaglio degli aggiornamenti, li vedete comunque, però per difetto la finestra adesso si apre, così, più piccolina, e giusto che vedo una finestra con dei pulsanti, vi rammento rapidissimamente, che anche i pulsanti sono stati arrotondati, li vedete con un bordo più raffinato, che sono un po' diversi dai pulsanti che ci sono adesso. Comunque ecco, il gestore degli aggiornamenti è stato semplificato nella sua visualizzazione iniziale, e appunto come dicevo, se vi interessa vederlo come lo vediamo praticamente adesso, potete sempre premere qui il pulsante dei dettagli, e vi vedete i vostri dettagli. Ecco, questo più o meno breve excursus sulla nuova Ubuntu, che a questo punto, a un mese, o pochi giorni più di un mese, non cambierà nelle sue funzionalità, diciamo che adesso è tutto un lavoro di stabilizzazione, come sempre, per quanto possibile, per una versione intermedia, e appunto ho cercato, qua e là, almeno dove ci fosse qualcosa da dire, di dare anche la mia opinione. In generale, trovo che non ci sia niente di criticabile o negativo, non perché uso Ubuntu da essere per forza tutto positivo, ma quanto le scelte fatte, secondo me, vanno nella direzione giusta. E per concludere il video, le risottolineo, perché è questo l'importante appunto, non volevo fare un video come tanti altri, che sarebbe un inutile doppione, a questo punto, ma volevo dare anche il mio pensiero, insomma, quindi abbandonata Unity 2D, decisione più che positiva, aumentare la sicurezza del nostro PC, con criptografie del disco, e la comodità di gestione dei dischi, con l'LVM, pure decisione positiva, sarebbe il caso di dire anche finalmente, a disposizione di tutti. Impostazioni di sistema, beh, queste sono già cose meno preponderanti, ma insomma, tutto, il tutto, sommando il tutto, contribuisce a migliorare la nostra esperienza, e anche i ritocchi grafici, come ho detto, hanno la loro importanza. Il ritocco alla login, sia grafico, sia di sostanza, con l'accesso remoto diretto, per chi ne ha bisogno, lo apprezzerà sicuramente molto. La dash, ecco la dash, va nella direzione giusta, migliorando e aumentando ulteriormente la sua importanza, le sue funzionalità, e il suo comfort di utilizzo. La nuova lens, sicuramente benvenuta, non è una lens, delle tante magari inutili, ma quella delle immagini, è una lens importante. E, vabbè, anche la semplificazione dell'aggiornamento, della gestione dell'aggiornamento dei software. Ecco, chiudiamo qua. Come ogni volta, vi ringrazio naturalmente, se avete avuto la costanza di seguirmi fino alla fine. Un saluto, ciao ciao, e alla prossima!